Signorina Prince! Signore, hanno evacuato la città. Sembra che voglia portarlo nello spazio. Passiamo alla chiave rossa, signor Presidente. Non ancora, è impazzito. Sono in alto, possiamo attaccarli senza vittime, signore. Una vittima, signor Presidente. Superman. Dio, abbi misericordia di lui. Chiave inserita. Chiave inserita. Falchi rossi armati e pronti al lancio, signore. Fuoco a volontà. Tre, due, uno. Conto, solo a causa. Arei. Quanto miilia? Quanto. ander. Oh, Dio. Missile 1. Impatto. Stryker's Island, a est di Metropolis. È disabitata. Missile 2. Nessun rientro apparente. Missile 2. Superman, signor Presidente. Il missile 2 era... ...Superman. Signore, si muove. Signore, si muove. Tu m'a ridotto. Missile 2. Messiah ch움. Will Ue. Le onde d'urto diventano più forti. Ogni volta che lo colpiamo lo rendiamo più potente. Non possiamo attaccare. Che stai dicendo, Calvin? Dico che non si può eliminare. Signor Wayne, riesce a sentirmi? Alfred, è kriptoniano. Solo armi alla kriptonite la uccidono. Potrebbero, se gliene fosse rimasta una. Mi resta un caricatore. L'alpione, Alfred, è pura kriptonite. È rimasto al Gotham. Se riesco a bucargli la pelle, l'alpione lo ucciderà. In teoria è possibile. Devo fare in modo che mi insegua mentre vado in città per la kriptonite. è sicuro. Questa è sicuro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.